Si litiga di più ma i processi civili sono in calo e la fotografia scattata dal sole 24 ore in due anni i processi civili a Piacenza sono diminuiti del 14,2% è il dato riportato dal quotidiano economico che conferma come anche nella nostra provincia si evidenzi un generale calo della domanda di giustizia diffuso in tutta Italia. La nostra città si posiziona attorno al settantesimo posto della classifica delle 100 province con maggior procedimenti civili e maggior contenziosi in tribunale quindi una posizione piuttosto rassicurante. Per quanto riguarda i procedimenti civili Piacenza si piazza al settantasettesimo posto con un totale di 6.009 procedimenti iniziati nel 2015 che equivalgono a 21,11 processi ogni 1000 abitanti. Il calo dal 2013 è del 14,2% quindi in test la classifica ci sono Roma con i suoi 178.000 nuovi processi seguita da Messina e Reggio Calabria e da altri capoluoghi del sud Italia nelle prime 20 posizioni con la sola esclusione di Milano e Trieste. Nella vicina Parma i processi ogni 1000 abitanti sono 23,16. Va leggermente peggio per quanto riguarda le cause contenziose iniziate nel 2015. Piacenza si piazza infatti settantaquattresima con le sue nuove 1808 cause, circa 6,35 ogni 1000 abitanti, mentre Parma ha aperto 1336 contenziosi in più rispetto alla nostra provincia. La cima della classifica è saldamente occupata da capoluoghi come Catanzaro, Reggio Calabria e Foggia, mentre le province dove si litiga di meno sono Lecco, Sondrio e Belluno. Colpisce in entrambe le classifiche la posizione della vicina Cremona. Per quanto riguarda i procedimenti civili è 97esima con soli 16,25 processi ogni 1000 abitanti, mentre nella classifica delle cause contenziose è 95esima con soltanto 4,73 procedimenti ogni 1000 abitanti.